Un saluto a tutti Ciao a tutti dalla redazione di Rossini TV e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il Vallefoglia Magazine, il settimanale d'approfondimento della città di Vallefoglia. Prima di iniziare, come di consueto, vi ricordo i nostri contatti, alle quali potete inviare le vostre segnalazioni. Qua in sovraimpressione trovate il numero di WhatsApp oppure la mail di redazione Vallefoglia, chiocciolarossinitv.it. Vi ricordo che potete inviare foto, video, messaggi audio per quanto riguarda WhatsApp oppure semplici messaggi di testo. Ma iniziamo subito con la prima notizia, perché il sindaco di Vallefoglia e presidente dell'Unione Comuni Pian del Bruscolo a Parmi Lucchielli questa settimana ha nuovamente iscritto per la terza volta all'assessore alla sanità della regione Marche, Salta Martini, richiedendo un aumento delle sedi vaccinali all'interno della nostra provincia. Una richiesta per permettere un minore spostamento a chi non è residente a Pesaro, Urbino e Fano. Vediamo il servizio. Io penso che bisognerebbe avere molto buon senso e una grande capacità di ascolto. Bisognerebbe fare tutti i tamponi come si era iniziato, diciamo, facendo i tamponi a Montecchio, per tutta quest'area di 50.000 abitanti, a Gradara per la parte alta di Tavuglia e Gabicce e a Pesaro, perché aveva funzionato benissimo e la gente era contenta e ringraziava. Bisognerebbe fare i tamponi anche tutte le scuole, perché i ragazzi fino a 16 anni non fanno il vaccino e quindi quando riapriranno, spero presto, le scuole come le fabbriche, bisogna, quando c'è un caso, fare tutti i tamponi. E poi bisogna fare i vaccini a tutti e bisogna farli negli ambulatori medici, nelle farmacie, nella Casa della Salute, nei poliambulatori, diciamo, nelle strutture anche private che collaborano e che gratuitamente magari danno la loro disponibilità per fare i vaccini a tutti, perché si muore, non è che si scherza, no? Quindi dobbiamo cercare di non fare un ragionamento a senso unico solo con un tipo di vaccini. Io credo che noi, se sono inglesi, americani, cinesi, russi, poco ci importa. Il problema è se i vaccini sono efficaci, se li abbiamo a sufficienza per fare a tappeto tutti i vaccini a tutta la popolazione. Continuare a portare tutti questi di questo territorio di 150.000 abitanti in un unico luogo a Pesaro è una follia. Io penso che sia una cosa. Io ho fatto, come Presidente dell'Unione dei Comuni, la terza lettera qualche giorno fa all'assessore. Spero che capisca che, insomma, bisogna modificare quattro luoghi in questo comprensorio di 150.000 abitanti. In più, penso che quelli che stanno poco bene bisogna farglielo a domicilio. Se i medici telefonano loro, o i laboratori privati, o la Casa della Salute, quelli che non lo vogliono fare, dicono che lo vogliono fare. Il resto, far fare tutto online, le prenotazioni alle persone che un buon 60-70% non sa manco fare, o hanno un figlio, o hanno un nipote, creiamo solo i problemi. Insomma, i problemi dobbiamo risolverli, non crearli. E una notizia importante e positiva per quanto riguarda i vaccini è che il VAG Refrigeration Laboratory, che fa capo al gruppo VAG della famiglia Vitri, ha messo a disposizione i suoi laboratori, tra i più avanzati in Europa, per la conservazione dei vaccini anti-Covid-19. Quelli destinati a conservare i vaccini sono frigoriferi speciali, che possono essere raffreddati fino a raggiungere i meno 40 gradi. All'emomento, come affermato dai titolari Alessandro e Roberta Vitri, è stata messa a disposizione, per il futuro, una cella frigorifera di 50 metri cubi presenti nel laboratorio e che corrisponde a circa 80 frigoriferi medicali utilizzati negli ospedali proprio per la conservazione dei vaccini. E questa settimana è stata la terza consecutiva in zona rossa per tutta la nostra regione. Nonostante le tante limitazioni, i consueti mercati cittadini sono ancora aperti al pubblico, seppure sono davvero poche le attività che possono continuare il loro lavoro. Noi siamo stati al mercato di Montecchio, dove abbiamo parlato con alcuni commercianti che ci hanno espresso il loro pensiero in merito a questo delicato momento. Vediamo. Guarda, davvero un dispiacere, perché noi ce la stiamo mettendo davvero tutta, a non mancare al mercato, però c'è pochissima gente oggi qui a Montecchio e questo mi dispiace perché non so il perché, ma la gente ha paura di uscire anche qui al mercato, che siamo all'aperto e secondo me sarebbe ottimale venire a fare la spesa, visto che i prodotti non li facciamo toccare alla gente, serviamo noi. Non so, sempre peggio, sempre peggio e questo mi dispiace molto. Tu rappresenti il settore alimentare, comunque vediamo gente nei supermercati e a volte anche affollarsi. Quale può essere un po' la differenza di questo vuoto qua oggi? Eh, ma infatti è proprio questo, non capisco il perché. Anche perché nei centri commerciali la gente tocca tutto, sono vicini, non c'è distanza. Qui, tanto penso che adesso dalle riprese vedrete proprio voi che non c'è affollamento di gente, siamo ben distaccati un banco dall'altro. Non lo so il perché, però c'è sempre meno gente. Il primo giovedì abbiamo lavorato perché non sapevano che non c'erano i banchi dei vestiti. Poi quando hanno visto che non c'erano i banchi dei vestiti, sempre di meno la gente purtroppo. Dunque direi che è proprio una tistessa perché sotto Pasqua fare dei mercatini così, se poi penso che gli altri ambulanti dell'abbigliamento mancano completamente. E anche per noi il lavoro è più che dimezzato. Dopo un anno non ce l'aspettavamo, aspettavamo di essere a posto, di essere tutto in regola col virus. Invece qua la situazione è critica, i soldi non arriva niente, non si vede un centesimo. Non so come facciano gli ambulanti ad essere così bravi, a non protestare, a non farsi sentire. Perché ci sono delle categorie, ad esempio anche i fieristi, che loro sono un anno che sono a casa senza fare niente. Vedo qua uova di Pasqua, cioccolata, colombe, proprio entriamo nella settimana di Pasqua. Come sta andando da questo punto di vista? Allora, diciamo che si lavora col freno tirato. Due anni fa, perché l'anno scorso abbiamo saltato completamente, in questo periodo lavoravamo di brutto. La gente veniva, comprava, poi gli piace alla gente andare al mercato, fare due chiacchiere. Invece adesso qui la gente sembra che venga a rubare. Vengono a prendere furtivi, comprano un minuto, scappano, si guardano male, uno non può starduttire, non può tossire. È una situazione così, un po' critica. Vedi anche passi presto. La gente ce n'è, sì, forse il 25% che ci dovrebbe essere. La gente non gira, ha paura, è spaventata, anche se potrebbe venire da fuori comune. Però non viene al mercato perché è un po' spaventata, un po' il fatto anche perché ci siamo solo noi, non creiamo proprio un vero mercato. Perché la gente tanto viene anche per comprare le scarpe, viene per comprare i vestiti, una cosa e l'altra. Noi si fanno fare i mercati, però la gente non gira, c'è poco, praticamente c'è poco, poco introito. Alla fine della giornata ci sono i, cioè un mercato rispetto a un anno normale è meno della metà. La situazione è analoga su tutti i mercati, su tutti i mercati c'è sempre pochissima gente che gira perché è un po' spaventata per i contagi, un po' perché ha paura delle multe che può incorrere nello spostamento, perché non è ancora ben definita sta cosa, non è chiara la gente, purtroppo è così. Lavorare ci fanno lavorare, però a lavorare così è come se, non so se conveniva a stare chiusi come anno scorso o meno, capito? Perché il grosso del nostro lavoro si svolge praticamente il 75% in primavera. Se noi non vendiamo, io sono un produttore agricolo, sono un vivaio, se la gente non viene che non compra in questo arco di tempo qua, noi la merce ci va buttata via. E sempre per quanto riguarda le attività commerciali una situazione molto particolare è quella che riguarda i centri commerciali. Con quest'ultimi obbligati a restare chiusi, lo sappiamo, nelle weekend. Un caso molto particolare è stato quello del negozio Hashtag Stefano, che già da prima di Natale è costretto a rimanere chiuso durante le fine settimana e che lavora solamente per cinque giorni alla settimana. Sentiamo quindi il pensiero del suo titolare in base a questo argomento. Per quanto riguarda i weekend, sì, la situazione ovviamente non è cambiata e non c'è neanche nessuno spiraglio. che possa far pensare una riapertura del sabato e della domenica per i centri commerciali. E quindi di conseguenza io ho organizzato la mia attività proprio per lavorare per i cinque giorni. Questo è già una risoluzione di un problema perché ovviamente stando sempre dietro alla speranza mese per mese, stando dietro diciamo a quello che dice il governo di mese in mese, non si arriva da nessuna parte, non si può aspettare sempre il prossimo DPCM. Io mi sono organizzato a lavorare cinque giorni e lavoro cinque giorni. I miei clienti ormai sanno che io sono aperto nei cinque giorni e di conseguenza fino adesso è andato tutto bene tra zona gialla e zona arancione. Zona gialla ovviamente mi apriva anche al comune di Pesaro e altri comuni quali Mitrofi invece nella zona arancione calava un po', diciamo un 40% in meno, lavoravamo al 60%. Adesso nella rossa siamo andati a finire, come vedete è vuoto, siamo andati a finire al 10% sia della clientela ovviamente e anche della merceologia che possiamo vendere perché siamo limitatissime per quanto riguarda ovviamente gli articoli. Il fine era non avere assembramenti e giustamente ci sono riusciti. Niente, per quanto riguarda il futuro, speriamo di uscire dalla zona reossa, prevedo ancora una settimana dopo la Pasqua. Mi sono fatto un po' di analisi grammaticali di quelli che sono gli accadimenti e l'unica speranza, prima penso che sia impossibile, forse da metà aprile possiamo iniziare a sperare di uscire dalla rossa, vedo che soprattutto nei fronti soccorsi le notizie che vengono non sono delle più felici. Per il weekend no, per il weekend ormai andiamo avanti fino all'estate, non c'è nessun rimedio, non vedo speranze. Quindi niente, sono così, aspetto. Una desolazione anche perché comunque Natale, ora entriamo nella settimana di Pasqua, due settimane dove il lavoro sicuramente aumenta anche per il materiale che tu qua vendi e la gente non può venire da fuori dal comune di Vallefoglia. Sì, è una perdita dopo l'altra che però stiamo cercando di gestire. Cioè, in un modo o nell'altro, stando sempre qui un po' a muovere le carte, stiamo riuscendo comunque a non, cioè, per quanto riguarda, io ho parlato di 40% di perdita quando andavamo in zona arancione e il 10% quando siamo ormai qui nella rossa, però tutto sommato il fatturato sto cercando di tenerlo medio alto, quindi non ho delle grandi perdite, sono contento, cioè, sono contento malgrado il tutto di essere riuscito un attimino a gestirmi commercialmente. E sulle tema delle biodigestorie, dopo le dichiarazioni rilasciate proprio ai nostri microfoni qua su Rosini TV dalle consigliere comunale del centro-destra per Vallefoglia, Paolo Borlenghi, anche il Movimento 5 Stelle, sempre della città di Vallefoglia, ha voluto far presente la sua posizione in merito a questo delicato tema che da ormai diversi mesi è diventato protagonista per tutta la vallata. Vediamo il servizio. La nostra posizione è sempre stata chiara. Dall'inizio, da quanto abbiamo portato in consiglio monotematico la nostra mozione, che appunto parlava del biodigestore e in merito noi dicevamo che comunque sia il biodigestore, eravamo favorevoli sia al biodigestore, ma comunque ponevamo dei paletti molto importanti, a prescindere proprio per il fatto che in mancanza di un piano d'ambito eravamo preoccupati proprio per la tutela dei cittadini, quindi abbiamo posto questi paletti che sono il sovradimensionamento, perché è importante capire che il biodigestore deve essere, se si farà, deve essere fatto secondo il fabbisogno del territorio. Avevamo posto quella volta 45.000 tonnellate, che era in riferimento ai valori stimati, era del 2015 se non mi sbaglio, e quindi per noi è importante puntare sul sottodimensionamento, quindi sui 45.000 tonnellate, proprio perché abbiamo la tutela ai cittadini che siccome c'è nell'aria questa possibilità che si portano dei rifiuti da fuori regione o fuori provincia, quindi lasciandolo sottodimensionato, quindi questo rischio viene a meno. Poi avevamo messo molti altri paletti che era riferito all'occupazione del suolo, quindi si doveva cercare, per mezzo dell'amministrazione, di trovare la possibilità di trovare, più che altro non occupare nuovo suolo, quindi non più cementificazione, era un punto importante di questo, quindi se c'è questa possibilità nella zona Vallefoglia ben venga. Poi ci sono altri molti punti che sono comunque sia la possibilità che questo crea dei vantaggi comunque sia al comune di Vallefoglia e alla nostra vallata, comunque sia praticamente porta dei vantaggi nel recepimento di 350.000 euro, se non mi sbaglio, di diritti di urbanizzazione, e quindi questi potrebbero essere investiti nel ridimensionare tutto il problema che c'è nella vallata di Talacchio, che è quella della zona industriale che è in degrado, in forte degrado, quindi il problema dell'Ethernet secondo noi è un forte problema che deve essere attraverso questi incentivi che sicuramente arriveranno dal biodigestore indirizzati verso questo settore. Poi un altro punto importante da tenere in considerazione è che il fatto che per la tutela dei cittadini ci sia all'interno del Consiglio di amministrazione della nuova società, che è la Green Factory, un membro del posto, quindi dell'amministrazione, o se o no, scelto in comune accordo con le forze politiche di Vallefoglia e questo è proprio a tutela dei cittadini. Poi abbiamo messo altri paletti che sono quelli praticamente dei controlli, controlli anche senza nessuna indicazione, quindi controlli mirati sul funzionamento del biodigestore. E poi noi abbiamo messo un altro punto importante che era quello che un po' praticamente sui social viene reclamato, che è la mancanza dell'informazione, quindi è importante che i cittadini sappiano innanzitutto che cos'è un biodigestore, perché molti non sanno neanche che cos'è un biodigestore, quindi l'importanza dell'informazione deve essere mirata, deve essere totalitaria, quindi è importante l'informazione sì, ma ci deve essere anche partecipazione nella possibilità di creare questo nuovo impianto, quindi è importante che venga fatta un'assemblea pubblica. Noi l'abbiamo detto più volte anche a livello giornalistico, quindi è poi scritto nella mozione, che è importante fare un'assemblea pubblica, purtroppo in queste circostanze di pandemia in questo momento è difficile creare un'assemblea pubblica e questo purtroppo ne risente la popolazione e vengono poi create, diciamo, delle, come posso dire, false notizie e questo crea, secondo me, io dico, adesso è un po' forte la parola, un po' di terrorismo psicologico nelle persone, è un po' forte, capisco, però è importante che questo non avvenga. E a proposito di rifiuti, questa settimana sono state diverse le segnalazioni da parte di cittadini di Vallefoglia emerse soprattutto sui social. La prima segnalazione riguarda via Leonardo da Vinci a Morciola, dove a fianco ai cassonetti destinati all'immondizia sono state gettate a terra tavole di legno, indumenti e tantissimi altri oggetti come un gesto di totale ingiviltà. Un'altra situazione è quella accaduta in via Re dei Gatti a Montecchio, dove sempre in prossimità dei cassonetti sono stati abbandonati a terra i resti di una poltrona assieme a tutti i suoi cuscini. Un episodio curioso invece è quello accaduto a Morciola, dove una residente, mentre effettuava una camminata, ha raccolto da terra una grande quantità di grattevinci che qualcuno aveva prima grattato e poi abbandonato, creando uno stendino con essi come messaggio contro la maleducazione di alcune persone. E nonostante il delicato periodo, continuano comunque i progetti per la città di Vallefoglia. Proprio in questi giorni sono stati ultimati i lavori alle Teatro Branche di Sant'Angelo in Elizio nell'attesa di poter nuovamente tornare ad assistere ad uno spettacolo. Un'altra novità invece riguarda la zona industriale di Talacchio, dove le comuni hanno allestito un ebando per rilevare l'area mensa e farla diventare un'opportunità di lavoro per chi fosse interessato. Vediamo il servizio. È un posto ristoro abbastanza importante perché si possono fare colazioni, si possono fare pranzi e cene, quindi non solo per i lavoratori di quella zona, di quell'area. E quindi abbiamo messo a bando perché pensiamo che sia un servizio che si dà alla zona industriale, per i camionisti, per gli operai, per tutti coloro che ruotano attorno alla zona industriale di Talacchio, e un'opportunità per una famiglia perché se uno sa fare, fa le colazioni, fa il pranzo, fa la cena, lì c'è un parcheggio immenso attorno, c'è un bosco di piante, si possono fare le cose per i bambini, per le famiglie, si può fare del divertimento, della musica, insomma, è un luogo abbastanza interessante. Poi stiamo, ancora deve andare in giunta, però proviamo a riattivare anche il vecchio chiosco che è di proprietà del comune nel Monte di Colbordo, vanno le famiglie con i bambini, quindi se uno fa una piadina, fa un panino e delle bibite, magari guadagna qualche soldo e dà un servizio a quelli che vanno a portare i bambini a respirare la ribona, a fare i giochi nel Monte di Colbordo. Abbiamo anche ultimato, diciamo, definitivamente tutte le prescrizioni che i Vigili del Focco ci avevano dato al Teatro Branca Sant'Angelo in Lizzo, l'abbiamo speso circa 300 mila euro, 30 mila euro, per fare una ringhiera protettiva molto bella e molto robusta dall'uscita del teatro verso la strada e abbiamo reso tutto il materiale interno, dal bar al palco, alle tende, tutte in nifughe, per dare sicurezza al teatro, un teatrino di 150 posti, adesso in tempi di Coven sarà un terzo, però insomma un bel teatro che serve Sant'Angelo in Lizzo, le colline, Ginestreto, Monte Cicardo, insomma, e che insieme al Museo Venanzi, diciamo, alle attività di ristorazione, alla storia antica dell'anfiteatro, diciamo, che c'è a Sant'Angelo in Lizzo, la dà una vivacità a quel territorio. Poi lassù sono luoghi dove si mangia da Dio, quindi quelli che vogliono andare a vedere il paesaggio, l'ambiente, storia, cultura, pensiamo di rifare delle cose utili ai cittadini e di rendere quotidianamente trasparente l'azione di governo del Comune. E ne avevamo parlato qualche settimana fa con l'intervista alle consigliere regionale Andrea Biancani, proprio in questi giorni è arrivata la conferma che è stato approvato lo schema di accordo, in programma con la Regione Marche, per la realizzazione delle trazzate delle ciclovie regionali che attraversano il nostro territorio. Il percorso della pista ciclopedonale si snoderà in parte anche lungo le fiume Foglia e attraverserà uno dei tratti naturalistici più belli del territorio sia dal punto di vista floreale che faunistico, a beneficio di tutti coloro che vorranno fare movimento a piedi o in bicicletta in totale sicurezza e lontana dalle traffico delle strade. La ciclovia darà così l'opportunità di collegare la costa all'entroterra, unendo i diversi comuni della vallata e congiungendo tra loro le diverse piste ciclabili già esistenti, creando così una vera e propria rete di piste ciclopedonali. Ed era questa l'ultima notizia di questa nuova edizione delle Vallefoglia Magazine. Io vi ringrazio per essere stati con noi qua, sempre su Rossini TV. Vi rinnovo l'appuntamento venerdì prossimo e vi auguro un buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.